Ancora insieme nella parte del telegiornale dedicata all'approfondimento, oggi approfondimento politico, ci piace ascoltare le posizioni delle diverse forze politiche presenti in regione e con noi c'è Marco Fontana, segretario di Forza Italia Torino, benvenuto, grazie di essere qui, perché insomma un po' di cose da dirci ce le abbiamo, l'ultima volta che ci eravamo visti qui in questo studio era in campagna elettorale, pre campagna elettorale, quindi c'era Cirio che puntava al suo bis e poi Cirio ha vinto, ha insediato la nuova giunta, insomma abbiamo fatto forse anche un commento poi poco dopo il voto, a questo punto qualche mese è passata come partita, lo so che come segretario di Forza Italia Torino, cittadino, però insomma diciamo che un abile osservatore politico Marco Fontana, indipendentemente dal titolo che li mettiamo? Ma secondo noi è partito bene sapendo che è l'inizio di una legislatura nuova, dove ci sono assetti politici nuovi che derivano dal fatto che le percentuali degli elettori che hanno dato ai partiti hanno portato ad una compagine diversa con dei cambi di assessore, questo cambio di assessori ha fatto sì e ha portato al fatto che comunque ci siano delle limature su determinate posizioni, anche se l'impianto politico rimane quello del Cirio 1, però sicuramente ci sono assessori che devono capire come muoversi all'interno di ambienti complessi, ad esempio quello della sanità, viene uno perché rappresenta l'80% del bilancio regionale. E anche delle aspettative dei cittadini. Assolutamente sì, peraltro in un momento in cui il Cirio 1 usciva da una pandemia che quindi era stata una gestione in gran parte emergenziale e di ricostruzione della sanità, adesso ci sono tutta una serie di misure che man mano verranno calate a terra e che serviranno per dare peso a quello che il presidente Cirio aveva avviato nel primo scorcio di legislatura. Abbiamo visto i 4,5 miliardi che ha annunciato Riboldi per le costruzioni e la realizzazione di nuovi ospedali e di case di comunità, quindi 11 presidi nuovi, che vuol dire comunque riavvicinare la sanità ai territori, perché quello che veniva lamentato dai cittadini era appunto la distanza. Avere una rete più capillare sicuramente, soprattutto moderna, anche perché tu quando prendi una struttura e la ristrutturi, scusatemi il gioco di parole, hai dei costi di un certo tipo. Se allora rifai ex novo, come ad esempio si sta parlando del nuovo ospedale Maria Vittoria, vuol dire comunque cambiare completamente anche un'architettura che era pensata per dei macchinari completamente diversi. Ad esempio c'è capitato il caso di un'attacca che hanno dovuto segare il tetto per farla calare dall'alto. Se tu crei un ospedale nuovo, hai già in mente come strutturarlo dal punto di vista architettonico, hai minori costi e soprattutto hai una rispondenza anche a quelle che sono le nuove cure. Beh, è proprio l'approccio alla medicina che è cambiato e quindi cambia anche la struttura, certo. E quindi sicuramente il tema però che, c'eravamo detto tante volte, in campagna elettorale è sempre più sentito quello delle liste d'attesa, ci sono state anche in questo caso un po' di promesse, dall'altra parte l'opposizione dice, ma qui continuano a dire ma le liste d'attesa continuano a stare uguali. Sì, le liste d'attesa, c'è una rivoluzione che è in corso, noi abbiamo avuto la fortuna come segreteria di partito a livello torinese, io l'ho fortemente voluto insieme a tutto il coordinamento cittadino, la presenza dell'assessore Riboldi nella segreteria di partito per spiegare qual è il progetto sulla sanità e soprattutto sulla questione delle liste d'attesa. Sicuramente il nuovo CUP che adesso c'è stata la vittoria nel concorso da parte di un'azienda, l'introduzione dell'intelligenza artificiale per supplire soprattutto per quanto riguarda le cronicità e il post-acuzzi e la gestione dei pazienti, tutta questa parte qua gestita anche grazie all'intelligenza artificiale dovrebbe supplire in maniera e ottimizzare il servizio del CUP che adesso, lo sappiamo perfettamente, ha delle criticità. Però dicono ci sono anche pochi medici poi alla fine, quindi è vero le prenotazioni da gestire ma poi? Sì però prescindere che l'assessore Riboldi ha un'idea molto chiara che è quella di assunzioni anche tramite chiamate all'estero, soprattutto nell'ambito infermieristico e quant'altro e questo perché tu puoi lavorare sul numero chiuso in ambito universitario ma quella è una risposta che ti viene data da qui a 10 anni, 15 anni, devi formarli, quindi devi andare a trovare medici che ci sono e quindi stiamo come regione e con il presidente Cirio Riboldi andando a chiamare persone che siano comunque anche magari di origine italiana ma soprattutto in Brasile dove ci sono forti comunità anche italiane per importare subito medici e infermieri e supplire alle carenze contando che noi siamo stati con la giunta Cirio una giunta che ha ripristinato e assunto più di mille medici quindi comunque di mille operatori sanitari quindi cioè se si è già iniziato il piano di assunzioni poi bisogna stare dentro ai conti e i conti per starci dentro non è che puoi fare l'assunzione a valanga perché sennò ti ritrovi a quello che è successo prima, ho un piano di rientro dove poi tagli gli ospedali quindi deve essere una questione equilibrata misurata sull'aumento delle entrate e su questo punto devo dire che l'assessore Tronzano per quanto riguarda le attività delle produttive ha ben lavorato perché in tutti gli indicatori il Piemonte si posiziona quasi sempre per attrattività di investimenti nei vari comparti tra il primo e il terzo posto in Italia quindi questo avanzamento del Piemonte ci fa dire che le entrate man mano aumenteranno e anche in un momento non facilissimo economicamente parlando. Allora come segretario del cittadino di Forza Italia invece cosa come si sta muovendo Forza Italia a livello cittadino insomma già qualcuno inizia a pensare beh tra un po' poi si si sa la politica guarda il primo appuntamento utile tra un po' ci saranno anche le comunali. A noi abbiamo fatto un interessante convegno in zona Lingotto insieme con gli alleati parlando dei primi due anni di governo Meloni e in quell'occasione devo dire che i segretari cittadini mio collega Pedrini, la Macanti, l'onorevole Macanti ci siamo tutti abbiamo lanciato l'OPA sul comune di Torino perché pensiamo che se il modello funziona a livello nazionale funziona a livello regionale non capiamo perché non dovrebbe funzionare a livello cittadino. Adesso qui stanno vedendo appunto infatti la regione ma cosa vuol dire il modello quale? Il modello di un centro-destra unito, coeso perché a differenza di quello che dicono alcuni giornali di parte anche quell'incontro ha dimostrato l'unità del centro-destra che non è un cartello elettorale ma è un'unione di persone che hanno dei valori comuni. Ma qui intanto stiamo vedendo le immagini di Giorgio Meloni, presidente del Consiglio ma il livello locale e il livello nazionale dialogano abbastanza in questa fase? Io devo dire che con il segretario di Fratelli d'Italia e quello della Lega mi vedo praticamente ogni settimana e stiamo cercando di mettere a punto tutta una serie di iniziative anche comuni nei prossimi mesi per dare un'alternativa a Torino. Noi pensiamo che lo possiamo fare anche come partiti politici, cioè non soltanto con l'utilizzo del civismo ci deve essere la chiamata e l'allargamento. C'è un po' il rischio di andare soltanto sulla società civile ma poi con le politiche. Ecco ma devo dire che i tre segretari cittadini sono caratterizzati da un grande amore per la propria coalizione e per il proprio partito e penso che noi su quello baseremo un ritorno alla fiducia verso i partiti. E veramente ci incontriamo sui temi di attualità ogni settimana per dibattere e capire quali posizioni tenere. sempre di più da qui verso la fine della campagna elettorale cercheremo di uniformarci e unirci nell'opposizione alla giunta allo russo e per dire ci siamo, siamo credibili, possiamo dare un'alternativa stabile alla città. Ma farete la stessa cosa che ce l'ho dito all'ultimo? Chi è il candidato? E' complicato. Ma non perché, cioè bisogna capire qual è la persona migliore che può rispondere ai cittadini torinesi. Ne abbiamo provate di tutti i tipi. Quindi ci stiamo lavorando. Però la prima parte è quella di trovare una convergenza sul modo di dialogare. Torino è una città particolare che ha bisogno di un certo tipo di dialogo. Dall'altra parte però quello che ho sempre denunciato è che c'è una tendenza all'appiattimento verso il centro-sinistra dove si cerca l'apprezzamento quasi del centro-sinistra perché vincendo con percentuali molto importanti tendi a dire no ma io mi devo uniformare a loro. No ma probabilmente noi dobbiamo ritornare a parlare da centro-destra. Quindi noi dobbiamo essere fieri di essere di centro-destra e portare avanti quelli che sono i nostri valori. Magari con attenzione anche allo sguardo imprenditoriale anche perché Torino in questo momento sta passando un periodo difficile sia per i lavoratori autonomi, per i dipendenti lo sappiamo, tutto il tema Fiat. Mi pare che insomma anche come compagini di governo ci sia stato un po' di movimento. Ma c'è la questione di metabolizzare un lutto che noi non abbiamo più la Fiat perché noi continuiamo a parlare di Fiat ma non è Fiat, è una multinazionale che ha investito più all'estero, ha localizzato e quindi ci vuole il coraggio di avere un modello di città basato, intanto bisogna capire, sulla manifattura, sulla cultura, sul terziario. Io personalmente come Forza Italia credo che noi dobbiamo ripuntare sulla manifattura. Non è possibile che questa sia la città più cassa integrata d'Italia. Draghi quando è venuto qui a dare il prestito ponte per assicurare ancora la chiusura del bilancio di cui si bea il sindaco di Torino, peccato che l'ha chiuso con i soldi dati da Draghi, ci ha definito la più grande provincia del sud Italia. Quindi c'è un problema grave e qualcuno si dovrà assumere la responsabilità. Al netto della responsabilità di chi ha causato questo, e mi pare che sia chiaro perché il centro-destra non ha mai governato la città di Torino in tutti questi ultimi 30 anni, c'è la responsabilità di dare un'alternativa. Allora adesso dobbiamo chiudere, ma intanto di questo tema, credo che questo percorso, intanto tornerai a raccontarci questo percorso e poi così diamo un'occhiata anche alla regione, ovviamente, mentre già che ci siamo. Grazie allora, grazie a Marco Fontana, segretario di Forza Italia, cittadino per Torino. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento con GRP. Grazie a voi.